Uno psicologo può portare alla luce ogni malessere irrisolto e trasformarlo in nuove consapevolezze, migliorare la qualità della vita e delle relazioni. Per diffondere questo messaggio l'Ordine degli Psicologi della Puglia ha programmato una serie di iniziative che saranno messe in campo per tutto ottobre, mese del benessere psicologico. Il via c'è stato a mattinata nel Foggiano domenica scorsa. Il culmine dell'iniziativa sarà il 30 ottobre a piazza del Ferrarese a Bari con il Mind Park, un vero e proprio parco giochi in cui ogni attività è ideata per riconoscere e gestire le emozioni primarie. Mind Park, villaggio delle emozioni. Gli psicologi affiancheranno gli artisti di strada per giocare con le emozioni e dare la possibilità a coloro i quali si avvicineranno per giocare insieme di essere consapevoli e meglio gestire le proprie emozioni per poter potenziare e migliorare il livello di benessere e dello star bene insieme agli altri. La professione psicologo non si espeta soltanto all'interno degli studi ma in ogni contesto della vita quotidiana, nell'ambito della psicologia dello sport, nella psicologia scolastica, nell'ambito della psicologia del lavoro, nell'ambito della psicologia di comunità in genere, proprio perché la professione psicologo è una professione che può contribuire a migliorare i livelli dello star bene e dello star bene insieme agli altri. Ma le iniziative non si limitano a questi eventi. Gli psicologi pugliesi organizzeranno eventi convegnistici, saranno presenti in diverse piazze pugliesi e soprattutto terranno aperti i propri studi per un consulto gratuito. Tutti i nomi dei professionisti che aderiscono all'iniziativa sono sul sito www.mesedelbenessere.it